Qual è stato il momento più significativo di queste dieci puntate, o nella realizzazione di queste dieci puntate? Più significativo? Sicuramente la fase di scrittura è stata abbastanza stressante perché ci sono stati dei momenti in cui io premetto questo programma e speravo che non si scrivesse niente, che si andasse con la telecamera e poi dici tu cazzate, la gente ride, ridono per tutto, ho pensato io. Ed è così, però non mi divertivo io e quindi ho detto no, no, scriviamo delle cose che abbiano un nesso logico e non solo io che vado nei posti a fare domande. E quindi ci sono stati dei momenti in cui era come scrivere dei microfilm, sempre col beneficio del seppure non c'è un finale da film, l'arco narrativo, la fuga dell'eroe, l'arco, queste cose qua, viaggio dell'eroe, mai studiate, va bene uguale. E quindi il momento più significativo era quel momento in cui c'è stato un momento in cui mancava una puntata da scrivere e non usciva nulla. Ho provato ad andare in un circo a fare una sorta di reportage sui clown del circo ed è stata drammatica, drammatica perché non era per nulla bello, c'era un velo di malinconia che ha distrutto qualunque briciolo di entusiasmo. E quindi c'era una puntata mancante che non si è riuscita a fare, poi alla fine è riuscita, è avvenuta anche carina, pensavo molto peggio. Il viaggio che ci fa vedere. Il viaggio dell'eroe, no, è una puntata con degli americani, perché ero a Roma ma non volevo fare una puntata su Roma perché c'è troppa Roma in tv. E allora ho detto se sto a Roma devono parlare un'altra lingua, e quindi sono andato con i turisti americani perché Roma ne è piena. Qual è una faccenda complicata che hai riscontrato appunto in questo viaggio che hai fatto e qual è una faccenda complicata per te? Per me la complicata è la burocrazia, gli speed, le password, le bollette. Io ho i genitori ancora vivi che mi aiutano con queste cose. Quando purtroppo ci sarà il drammatico epilogo, uno dei motivi di rammarico, oltre a quello sentimentale, affettivo, sarà proprio doversi smazzare delle cose che non sono proprio in grado di fare. Per me le cose complicate sono appunto tutto ciò che concerne la burocrazia, che poi sono anche quelle cose che se non le fai bene rischi il carcere. Finora l'ho fatta sempre bene, credo. Però appunto da solo non saprei farle. Io ancora oggi quando vado dall'amministratore faccio finta al 100% di capire qualcosa, ma è come se parli a un bambino di geopolitica. Quindi per me questa è una cosa complicatissima. Ho grande invidia e ammirazione per le persone che più giovani di me o della mia età maneggiano queste cose. Molti miei amici che ho conosciuto nel periodo giurisprudenza, che poi ho abbandonato per questi motivi di qui sopra, hanno un'attitudine molto più proattiva su delle faccende da adulti. Ecco, forse le faccende troppo da adulti per me sono molto complesse. Quali sono i tuoi riferimenti a livello di comicità o anche di stare per lo stare davanti a una telecamera? Adesso prima anche in conferenza ti ascoltavo, guardavo la puntata, pensavo a Richie Gervais e mi hai fatto pensare a lui. Quella differenza che non spieghi quando fai le battute e questo l'ho apprezzato tantissimo. Ma infatti lo sai che sei la seconda che oggi mi nomina a Richie Gervais? Per me lui è bravissimo perché ha fatto una serie che è una delle mie preferite, che è The Office, però ho visto che recentemente non lo seguo tanto, ma l'ultima cosa che ho visto mi sembra che si compiaccia un po' troppo delle cose che dice. È bello parlare male da gente inglese, tanto non lo vedo mai. Se mi chiedevi parlare di Brignano, un grande. E quindi no, Richie Gervais non ce l'ho come riferimento sinceramente, ma è un periodo che io sto diventando molto patriottico, ovviamente storcendo il naso più volte, cioè cerco di vedere, nonostante nell'infanzia film americani, ho sempre avuto la passione degli... Richie Gervais è inglese, lo dico. Però ho sempre la passione per gli anglofoni, ora sto cercando di emanciparmi da quella cosa e vedere le cose belle che abbiamo e i talenti che abbiamo qua, che ci stanno, non so quelle cose che uno dice, tipo con tanti bei posti che abbiamo. E quindi sempre continuando a vedere cosa succede fuori dal raccordo anulare, secondo me ci stanno un sacco di cose brillanti anche da noi in Italia che però ovviamente soffrono la lingua parlata solo da 60 milioni di persone e non da tutto il globo come Richie Gervais. Se io parlavo inglese adesso ero miliardario, non ho una idea che facevo. Non c'avevo queste scarpe, c'avevo quelle altre, ti ricordi? Come si chiamavano? Ho visto delle scarpe bellissime, costavano un sacco, queste invece sono normali, si somigliano. Ma hai fatto il corso, quindi tanto insomma, a breve ti vedremo con le scarpe giuste. Comunque in inglese non sono divertente. Teatro, televisione, cinema, radio, sono quattro abiti diversi, no? C'è uno di questi vestiti che ti senti meglio addosso oppure sei sempre te comunque? Io a teatro mi diverto molto di più ma devo essere preparato. Al teatro non mi piace improvvisare troppo o comunque mi piace ma so che sto facendo una violenza al pubblico perché è un po' più onanistica come cosa quando parli improvvisi e ovvio che qualcuno si diverte. Però se ho una cosa ben strutturata, quello che preferisco è il teatro perché c'hai una risposta immediata e è quello più divertente. E poi perché lo puoi fare più volte senza annoiare perché ogni replica il pubblico dovrebbe essere diverso poi c'è stato quello che torna. Però invece se fai più volte la stessa cosa in tv è terribile, fai il meteo.